Questo è il quarto acquisto della Fogone, anche lui come detto il ragazzo ha presentato nel momento in cui gli è stato aspettata l'esperienza a Cremona, il progetto tecnico Cremona è stato subito accettato, sapete benissimo che abbiamo già parlato nel corso di queste due settimane che il problema di non dire era perché aveva da completare il suo rinnovo con l'Atalante, quindi è svizzato il suo arrivo qui, però fin dall'inizio Nadir ha accettato e anzi è stato coinvolto in maniera molto positiva da questo progetto Il suo è un'operazione di un crescito animale con l'Atalante che si cerca e si vuole dare continuità a questo percorso di crescita, è un ragazzo che viene da un'esperienza di situazione molto importante, sono attualmente campione in carica in Italia, quindi sicuramente è un ragazzo che ha già dimostrato nei primi voti che si, adesso si vuole mettere...